ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi mi è arrivato un bel pacchetto da libraccio finalmente questo qua bello pieno ho preso qualche libro che adesso andrò a mostrarvi prima due paroline su il libraccio questo negozio diciamo perché c'è sia online che fisico vende libri sia nuovi che usati ho avuto qualche problemino con questo negozio perché mi è dispiaciuto un po' questo fatto però comunque ho scelto dei libri che volevo comprare ho fatto l'ordine e nel momento che dovevano arrivarmi cioè quasi al giorno della consegna mi mandano una mail dicendo che due libri di questi che erano sei praticamente erano stati cancellati dall'ordine perché non presenti nel negozio ma io dico ma se tu me lo fai vedere che sul sito che ce l'hai io lo metto nel carrello ed è comunque come si dice è presente nel magazzino perché due giorni prima di spedirli mi dici che sono stati cancellati cioè allora non metterli sul sito vabbè detto questo niente due libri non sono sono stati cancellati e quindi è slittata l'ordine di consegna sta di fatto che dopo qualche giorno mi arriva una nuova mail dicendo che un altro libro fra quelli scelti era stato cancellato perché non più disponibile bene quindi su sei libri me ne sono arrivati tre e quindi questa cosa mi ha fatto girare un po' le scatoline vabbè ho detto li ho ricercati perché dopo che mi sono arrivati questi tre libri sono andata ancora sul sito a cercare se erano di nuovo disponibili perché loro non hanno mandato nessuna mail dicendomi è di nuovo disponibile blablabla li ho trovati e li ho messi nel carrello però mi sembra che uno era del tutto esaurito quindi due c'erano e me ne mancava un terzo comunque qualcuno da pochi euro per raggiungere la soglia dell'espedizione gratis quindi ne ho preso uno da poco e niente sa di fatto che anche questa volta mi è arrivata una mail dicendomi che uno di questi tre libri era esaurito nonostante io l'avessi messo nel carrello che era disponibile eccetera vabbè ovviamente sia la prima spedizione che la seconda non sono arrivate in orario nell'orario che era stabilito nella mail quindi questa cosa mi ha fatto un po' per cui credo che non lo prenderò più in considerazione come sito su dove acquistare perché non mi ci sono trovata molto bene magari andrò nel negozio fisico sì quello sì perché se ce l'hanno subito te lo danno subito e niente vi mostro quello che alla fine mi è arrivato allora ho preso mettiamo da parte questo perché ingombra solo ho preso il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa cognome impronunciabile questo qua è il libro famoso da due euro che ho aggiunto per la spedizione gratuita però l'ho sempre visto in giro ne ho sempre sentito parlare quindi ho voluto l'ho scelto apposta perché mi sarebbe piaciuto leggerlo e quindi l'ho preso è usato un po' si vede però comunque ho tenuto bene è pagato due euro e cinquanta se non mi ricordo male perché sono arrivati da quasi due settimane e li ho raccolti tutti e praticamente in breve questa protagonista ha paura del contatto fisico delle parole e si per ogni sua diciamo per il suo linguaggio utilizza i fiori comunica come dice qua le sue emozioni più profonde e in base ai diversi fiori hanno delle emozioni diverse e quindi dato che l'ho visto in giro ne ho sentito parlare anche bene ho deciso che volevo leggere non è neanche diciamo questo libro così grande me lo aspettavo in copertina rigida non ho guardato se era in flessibile o meno però questo cioè non mi interessa più di tanto va bene anche così anzi meglio questo poi ho preso il ragazzo con gli occhi blu anche questo usato costava 18 euro e l'ho pagato 10 euro diciamo 8 euro qualcosa di sconto questo qua l'ho comprato grazie a Tolkien Page che saluto che grazie a lei tramite la sua recensione mi è piaciuto un sacco e ho deciso cioè dovevo averlo per forza e parla di questo bambino un po' strano è un po' una storia particolare di questo bambino che praticamente non mi ricordo niente quindi sto cercando di leggere un po' la trama un bambino incompreso dotato di una sensibilità straordinaria ossessionato da una terribile fantasia quella di uccidere sua madre bene e non vedo l'ora di leggerlo questo questo qua è abbastanza altino e non vedo l'ora poi altro libro che volevo da un sacco di tempo una vita da libraio questo qua amo la copertina questo qua l'ho preso nuovo però non mi ricordo se l'ho pagato 13 euro o era leggermente scontato non mi ricordo per niente e parla di questo libraio appunto che racconta dei clienti che entrano nella sua libreria e quindi mi piace mi è sempre piaciuto ho sentito parlare anche di questo per cui ho voluto comprarlo anch'io e vedremo se mi piacerà spero poi sempre grazie a Tolkien Page ho comprato anche questo il mondo quello vero questo romanzo non mi ricordo affatto ah sì questo costava 17 ma c'era un super sconto del 65 per cento l'ho pagato solo 5 euro praticamente e non potevo non prenderlo anche questo sempre consigliato cioè comprato grazie alla sua recensione e parla di questo Marcello 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 credo che ha una sindrome che gli rende molto difficili le relazioni con le altre persone per questo si sente a suo agio solo conducendo una vita molto strutturata anche la copertina è troppo bella anche dietro con tutte le stelle e anche questo non vedo l'ora di leggerlo poi infine altro libro che ho preso è solo per arrivare alle spese di spizione gratis ossa fredde non so assolutamente niente di questo libro l'ho visto in giro e so che è un thriller grazie c'è scritto come vedete qua e lui osserva aspetta e uccide mi piacciono da matti thriller quindi sicuramente mi piacerà questo vi lascio un po' la trama così se volete leggerla spero anche questo un bel malloppo però è scritto abbastanza grande quindi si legge velocemente e niente detto questo del libraccio il libro che tanto cercavo era il circo della notte che doveva essere insieme a questo ordine ma non so una, due, tre volte non sono riuscita a prenderla la prenderò direttamente una copia in un negozio perché se no e niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un mi piace se è così e noi ci vediamo al prossimo video ciao